La persa Pioli, la persa Male, la qualificazione in Europa League è tutta sulle spalle dell'allenatore anche se qualche piccola attenuante si può trovare, ma proviamo a capire insieme. Certamente è una partita che ha girato subito malissimo, girato male perché la Roma fa due gol nei primi due tiri in porta, una gara è fino a quel momento equilibrata, due conclusioni complimenti alla maggior qualità sicuramente di Dybala e di Pellegrini, però insomma ci sta, alcune partite nascono male, questa contro la Roma è stata una partita nata male per il Milan e questo va riconosciuto. Detto questo però bisogna anche dire che Pioli ha commesso una serie di errori incomprensibili che ne pregiudicano, è inutile ormai stare a fare troppi ragionamenti, la sua prosecuzione sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Vediamo qualcuno di questi errori. Primo, nessuno ha capito finora quale sia la coppia di cetrocapisti centrali che gioca davanti alla difesa del Milan. Li abbiamo visti cambiare in continuazione, una volta Adli, una volta Erenders, questa volta Musa, anzi su Musa torneremo, altre volte sono stato Ben Nasser, nessuno si rende mai conto di dove venga occupato l'Oftus Cic, una volta avanti, una volta un po' più indietro, quindi una grande confusione a centrocampo. Non è possibile che il Milan arrivi a fine stagione, nel momento più delicato della stagione e improvvisi una coppia di centrali difensivi a centrocampo. Oltretutto due giocatori completamente fuori ruolo, vale a dire Musa, che sembrava essere destinato a giocare a fianco di Ben Nasser, laddove si pensava che invece avrebbe giocato Reenders, laddove si pensava che potesse essere impegnato invece l'Oftus Cic arretrato con Pulisic avanzato. Niente, Pioli si inventa improvvisamente un centrocampo che non esiste. Calabria messo a centrocampo con Musa a destra, quindi due giocatori fuori ruolo, un nuovo inedito reparto centrale di centrocampo formato questa volta da Calabria, improvvisato in quella posizione con a fianco Ben Nasser, che sembrava invece non essere in grande forma. Già qui uno dice, ma perché? Perché il Milan non può avere nei meccanismi essenziali del centrocampo una sua identità? Perché è l'identità quella che porta poi una squadra ad avere dei risultati costanti? Non a caso lo stesso Milan di Pioli che vinse lo Scudetto è una squadra che aveva delle certezze, perché aveva due centrocampisti centrali, Ben Nasser e Tonali, e che si è avanzato. Si era capito, l'unica variazione a un certo punto era stato appunto che sì, che aveva preso il posto di Diaz. Qui invece nessuno è stato in grado e è in grado di capire chi diavolo abbia scelto nei due centrocampisti che stanno avanti ai quattro difensori. E non si può improvvisare nella partita decisiva con la Roma, improvvisamente Calabria che passa dalla fascia destra a mediano di destra con Musa che ha giocato poco, tutto sommato, che gioca invece terzino destro, o meglio esterno destro. Già questa è una cosa che pronti via non aveva nessuna spiegazione. Dopodiché il Milan ha la fortuna, diciamo la fortuna, di trovarsi in superiorità numerica, perché l'espulsione che c'era della Roma però è stata frutto di una follia del difensore su Leao, non frutto di una grande azione che è stata obbligatoriamente portata all'espulsione di un avversario. Quindi ti ritrovi uno in più con 70 minuti da giocare. Che cosa fa un allenatore assennato? Cerca di avere una maggior brillantezza sulle fasce per saltare una squadra che inevitabilmente, come ha fatto la Roma, si chiude a Riccio perché ha un giocatore in meno. Qual è il giocatore più in forma e più capace di fare questo tipo di gioco? Cucuese. Cucuese è sicuramente il calciatore del Milan in questo momento più in forma del reparto offensivo. Lo abbiamo visto nelle ultimissime partite. Già Cucuese non gioca a titolare perché si presume che Pulisic vada meglio e tutto sommato può avere anche un senso. Ma caro Pioli, ti trovi ad avere un uomo in più, ti trovi con la Roma che si chiude nell'area di rigore e tu che cosa fai? Metti un centro avanti in più, cioè vai a infoltire proprio la zona in cui la Roma si mette maggiormente con i suoi effettivi. Metti un altro statico lì in mezzo, oltre a Girucci è statico, aiutandola la Roma. Non a caso avrete notato che Cucuese, almeno per i primi 25 minuti del secondo tempo, quando entra troppo tardi, ha fatto disastri nella difesa romanista. Saltava l'uomo, metteva palloni in mezzo, creava la superiorità numerica. Qual è la bici di un allenatore? Quando hai un uomo in più, non metta un centro avanti boa in più in area, metti un esterno che salti l'uomo perché gli spazi diventano sempre più stretti. E quello era il momento di Cucuese. Ecco, aver messo Jovic e non Cucuese è stata, a mio modesto avviso, una bestemmia tattica, una follia di Pioli, che ha dimostrato di non capirci più niente. Praticamente dall'immediata visita della partita, quando schiera una formazione senza senso, al decorso della partita, in cui non si rende conto che aveva bisogno di un esterno destro, data la superiorità numerica, che superasse l'uomo e Pulisic, leggermente più centrale, con le sue capacità balistiche, perché era evidente che si sarebbe dovuto tirare molto più che dall'area di rigore, dove c'erano tutti i lunghi della Roma che presidiavano, dal limite dell'area di rigore. Insomma, la scelta di mettere Jovic, e stiamo parlando non di un giocatore in grandissima forma, è stata già una scelta tatticamente assurda. Aggiungiamo a tutto questo che Jovic, rispetto per esempio a Okafor, ha anche una staticità che non collaborava molto al tipo di partita che doveva cercare di fare il Milan, cioè allargare il più possibile la difesa romanista, che si è immediatamente concentrata in area, per portare alla conclusione i trequartisti, segnatamente Pulisic. Dopo tutta questa serie incredibile, inammissibile di errori di Pioli, dobbiamo però parlare anche del fatto che ci sono state delle prestazioni deludenti, ancora una volta, dei giocatori più importanti del Milan. Dobbiamo cominciare come al solito da Leao. Leao, io credo che dovremmo tutti renderci conto di un fatto molto semplice. Leao non è un grande giocatore che potenzialmente può diventare un fenomeno. Leao è e resta esattamente quello che stiamo vedendo negli ultimi due anni. Cioè questa crescita esponenziale che molti prevedono per Leao non avverrà mai, secondo me. Leao è e resterà questo tipo di calciatore, cioè un esterno rapsodico, come si dice, cioè capace di improvvisi momenti di grande intensità e poi di enormi momenti invece di stanca, in cui si placa, in cui rimane a partecipare ai margini dell'evento. Purtroppo l'essere rapsodico di Leao si sostanzia il più delle volte nelle partitissime, perché è abbastanza raro vedere Leao fare una partitissima contro una grande avversaria. Lo vediamo più semplicemente magari inventarsi un inserimento col Sassuolo, ma la continuità, la capacità di battere, sfondare, di dare spallate sulla sua fascia, di fare delle cose importanti, di far crollare la squadra avversaria, ce l'ha raramente. Leao non sarà mai Vinicius, tanto per fare un nome, cioè se qualcuno pensa che Leao sia un giocatore da 120, 170, 200 milioni di euro, si deve ricredere. Leao rimarrà sempre un eccellente giocatore, un calciatore che potrà trovare, speriamolo, per il mila, un estimatore che possa dare 70, 80, 90 milioni di euro e bisogna che venga impacchettato, secondo me, e spedito, perché più di questo lui non farà mai e tutto sommato non giustifica nemmeno lo stipendio che sta prendendo, perché quando prendi 7 milioni e mezzo, sostanzialmente, tra premi fissi in più, pagato 20 milioni di euro extra a Lille per poterlo prendere, devi fare sempre la differenza, o comunque devi fare la differenza, vogliamo dire, in tre partite su cinque. Leao la differenza la fa in una partita su cinque, poi ne fa due così così e due in cui non la vede mai. Anche la prestazione di Leao è stata la dimostrazione di un calciatore che non è, in questo momento, in grado di trascinare la squadra e, mi permetto di dire, se vendendo Leao puoi prendere un gran bel centravanti e ti metti Ciucuezza destra e Pulisica a sinistra, hai un Milan più forte. Su questo dovrà riflettere con grande attenzione, a mio modesto avviso, la dirigenza, chiunque essa sia, nella decisione che dovrà prendere. Forse Ibrahimovic non l'abbiamo ancora ben capito. E cioè, non avendo il Milan i mezzi per fare un acquisto enorme come centravanti, se deve fare un sacrificio e riesce a venderlo bene, e per me venderlo bene significa vendere Leao a 75 milioni in su, ben venga, soprattutto anche per lo stipendio che prende, una cessione di Leao. Perché dopo anni, soprattutto dopo gli ultimi due anni, abbiamo capito che più di così Leao non riesce a fare. Non è il calciatore assoluto, è un grande giocatore, ma non un campione assoluto. E quindi è inutile tenerselo così stretto addosso, soprattutto quando, nelle due partite che potevano salvarti la stagione contro, con tutto rispetto, la non irresistibile Roma, Leao è praticamente scomparso. Sì, ha portato a un'espulsione, ma insomma, non è lì che ha fatto la differenza. Ha fatto il cross per il gol di Gabbia, ma niente di più. Insomma, è un Milan che esce a capochino, anche da questa competizione, è un Milan che purtroppo nelle competizioni a eliminazione diretta, le partitissime, le ha sempre perse male, se vogliamo, l'anno scorso contro l'Inter, in Supercoppa, in Champions League, in Coppa Italia ancora erano prima con l'Inter, adesso con la Roma. È una squadra che forse è più da corsa a tappe. Peccato che la corsa a tappe di quest'anno porterà il Milan soltanto al secondo posto. Troppo poco, viste le eliminazioni amarissime in Coppa Italia, e amare, dobbiamo dire la verità, adesso anche in Europa League, per giustificare la permanenza di Pioli. Sia chiaro, non è che Pioli abbia fatto malissimo, ha fatto il suo percorso. Sia chiaro, non è detto che basti un allenatore diverso con questo tipo di giocatori per vincere chissà quali trofei, ma gli errori commessi all'Olimpico davvero non sono più perdonabili all'allenatore che possiamo considerare ormai ex rosso-nero. Grazie.